buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo sull'equilibrio lo faremo in maniera dinamica come sempre chi avesse bisogno stia pure vicino a qualcosa per qualsiasi avvenienza quello che andremo a fare sarà chiudere gli occhi ascoltare bene l'appoggio dei piedi e mantenendo gli occhi chiusi incominciare a camminare sul posto cioè sollevo un piede stabilizzo bene sull'altro lo riappoggio traslo il peso sul piede di appoggio e sollevo l'altro piede e continuosi molto lentamente per concentrarmi in particolar maniera sulla percezione della transizione di peso tra l'uno e l'altro piede e sulla ricerca del punto di stabilità allora incominciamo chiudo gli occhi e incomincio sposto il peso su un piede sollevo l'altro lo riappoggio porto il peso sul piede che prima avevo sollevato e sollevo l'altro e continuo e stop riapriamo pure gli occhi sciogliamo un po le gambe e lo andremo a ripetere di nuovo ci concentriamo bene sui piedi ci stabilizziamo quando siamo pronti chiudiamo gli occhi e ripartiamo sollevando un piede riappoggiandolo posizionando il peso sull'altro e sollevando un'altra gamba movimenti lenti molto ben concentrati sulla percezione di appoggio e di scarico del peso sotto i piedi respirazione lenta rilassata ma presente grazie e possiamo riaprire gli occhi sciogliere nuovamente la posizione se servisse e lo andremo a ripetere un'ultima volta per l'ultima volta ci posizioniamo quando siamo tranquilli e settati nella percezione del peso sotto i piedi chiudiamo gli occhi e ripartiamo per l'ultima volta grazie a tutti grazie a tutti e possiamo riaprire gli occhi sciogliere se serve un po' le gambe e per oggi la nostra lezione è terminata noi dunque ci diamo appuntamento a domani per una nuova lezione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti